Siamo in collegamento telefonico con Rosetta Petrogalli che si trova al rifugio Mondovì. Lei ci può aggiornare in merito all'esperienza dei colleghi che si trovano al rifugio Malghiera? Esatto. Prego, ci dica. Allora, mi hanno comunicato che loro hanno avuto una giornata buona, il tempo un po' incerto, però sono stati bagnati solo da una pioggerellina per un breve, per poco tempo. Allora, sono saliti questa mattina al lago Malghiera, poi hanno raggiunto il passo Malghiera a quota 2543 e hanno potuto vedere da lì, in Svizzera, da Valposchiavo. A ritorno si sono fermati poi al lago Malghiera e lì hanno pranzato e hanno passato un po' di tempo giocando, giochi organizzati per gruppi. Rientro poi è stato veloce perché la pioggia li ha sorpresi. Hanno comunque poi continuato la loro attività fuori dal rifugio. I ragazzi stanno tutti bene e stanno preparando una grande irigliata per questa sera. Questo è tutto quanto dovevo dire. Stanno tutti bene, grandi e piccoli. Passo adesso Gianni Facchini che dà comunicazione circa il nostro gruppo. Buonasera. Buonasera, sono Gianni Facchini. Questa mattina siamo partiti verso le 9, il tempo è stato buono, migliore poi verso sera e ci siamo recati ai due laghi che ci sono appena sopra il rifuso per rientrare poi successivamente nel pomeriggio al lago più basso e lì abbiamo svolto un po' di giochi. Ci siamo intrattenuti appunto a farli giocare con giochi di squadra eccetera. Adesso siamo appena rientrati, un po' stanchi ma tutti contenti e tutti entusiasti anche perché abbiamo come ospite una botanica ed un geologo che ci spiegheranno un po' la geologia della zona e tutta la flora e la fauna che possiamo incontrare e che abbiamo incontrato in questi giorni. Tutti quanti stanno bene, non c'è nessun problema. I ragazzi camminano, mangiano, si divertono, non c'è nessuno che piange quindi tutto bene. Saluto a tutti e buona serata.